A Vicenza, la Nerossi Vicenza 1, Bologna 0. Qui è lo studio a Vicenza, situazione di parità, la Nerossi 1, Bologna 1 e siamo al tredicesimo. In questo istante ci perviene una segnalazione, attenzione a Vicenza al quattordicesimo, il Bologna è passato in vantaggio. Quindi questa è la situazione, la Nerossi Vicenza 1, Bologna 2, ha segnato Gregori. Qui è lo studio, a Vicenza il punteggio è cambiato, la Nerossi Vicenza è pervenuto al pareggio e al trentacinquesimo appunto abbiamo la Nerossi Vicenza 2, Bologna 2, ha pareggiato per il la Nerossi Marasca. A Vicenza il punteggio è mutato, il Bologna è nuovamente in vantaggio. Al trentasettesimo la Nerossi Vicenza 2, Bologna 3, riporta in vantaggio il Bologna a Bulgarelli.